Buongiorno e benvenuti, saluto in primo luogo le autorità presenti e in modo particolare l'ingegnere Presidente dell'Associazione che ha realizzato questa splendida struttura. Credo che un applauso dovuto e meritato per l'impegno profuso, ma così come il Presidente saluto tutti i membri dell'Associazione e tutti gli appassionati. Saluto anche tutti quanti voi, i cittadini, che ogni volta che si organizza un'iniziativa partecipate numerosi a questa chiamata da parte dell'ingegnere. Oggi è il 25 aprile, una giornata importante, quindi merita un ricordo tutti coloro i quali si sono profusi, hanno anche perso la vita per regalarci un Paese più libero, più democratico e per regalarci la libertà che non avevamo. E quindi per noi è un motivo di grande felicità poter partecipare a questa iniziativa e poter ricordare anche queste persone, questi giovani, questi uomini, quelle donne che hanno perso la vita per il Paese, per l'Italia. Grazie. Grazie.